Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Sul nord Italia la depressione atlantica apporterà un deciso calo termico con intensi temporali. Sulle regioni meridionali l'ondata di caldo si farà più cruda, con temperature massime che raggiungeranno in alcune zone anche i 40 gradi. Ondata di caldo africana che accompagnerà il sud della penisola fino al prossimo weekend. Dopodiché anche il meridione ritornerà a respirare. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 28 giugno. Il caldo africano inizierà a farsi sentire già dalle prime ore del mattino, con cieli generalmente pieni ovunque. Dalla tarda mattinata e nel pomeriggio aumento delle nubi medio-alte e cieli lattiginosi, qualche possibile debole piovasco nelle zone più interne lucane. Le temperature saranno in aumento di 2-3 gradi, con massime che su Foggiano, zone interne del Barese, Materano e Leccese potranno toccare nuovamente i 36-38 gradi. Venti rinforzo dai quadranti sud-occidentali, mari da poco mossi, ammossi, lo Ionio e l'Adriatico. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo il nostro telespettatore Pietro Carnevale, che ci regala questo tramonto rosso fuoco sul finire di una caldissima giornata a Rodi Garganico, in provincia di Foggia. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero whatsapp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.